De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo del Balzo ad Avellino. E' andata che siamo ancora in una fase interlocutoria, cioè nonostante abbiamo chiesto ormai da mesi, genitore per genitore, che si attui la terapia EBA per i bambini piccoli e che si proroghi il progetto per i 12 ragazzi grandi, anzi che venga stabilizzato e ampliato ad altri ragazzi che ne hanno bisogno, non abbiamo al momento nessuna risposta, né in positivo né in negativo. Diciamo che la dottoressa Vozzella ha preso atto delle nostre richieste. Devo dire che sono perplessa perché di queste richieste avrebbe dovuto prendere atto già da tempo, già che le domande sono partite due mesi fa. Invece ha solo preso atto, ci ha detto che dobbiamo avere fiducia, ma nessuna certezza per il momento. Intanto i bambini e i genitori aspettano ancora con apprezzazione. Intanto i bambini piccoli, ce ne sono alcuni che aspettano da un anno e mezzo. Quando la legge, quando le linee guida parlano di precocità di intervento e di intervento intensivo, un bambino che aspetta un anno e mezzo una terapia perde moltissimo del suo futuro, un bambino autistico, perché il programma terapeutico non è precoce. Ma intanto anche per questo bambino io ho chiesto, non è stata data nessuna risposta e nessuna rassicurazione ad oggi. I più grandi stanno facendo un percorso di integrazione sociale che la stessa ASL, lo stesso professore Vittozzi, ritiene ottimo. Il percorso scade al 30 giugno, anche qui non abbiamo avuto nessuna rassicurazione. Ci è stato detto semplicemente avete dato, avete chiesto, vi sarà risposto. Non sappiamo come. Presidente, fino a che punto può durare questa attesa? Io sono veramente rattristata di questi comportamenti. Oltretutto ci siamo anche sentiti dire che facciamo troppo rumore da qualcuno. Facciamo rumore per i nostri figli, facciamo rumore perché abbiano quello che la legge è giusto e che debbano avere, facciamo rumore perché abbiano un futuro e non siano dimenticati.